In questo 2023 ci sono state tante manifestazioni di razzismo, razzismo territoriale, sul colore della pelle e non parlo solo del Napoli, lasciamo stare il Napoli perché a volte diciamo eh no siamo troppo napoletani, parlo di Blauic settimana scorsa, parlo dei giocatori del Lecce quando è successa la partita all'inizio del campionato del 2023, Lecce-Lassio, parlo di Lukaku queste manifestazioni di razzismo che non vorremmo mai vedere, vedere questa immagine di Luciano Spaletti col bambino ci tolgono un sorriso che in questo 2023 dentro un campo di gioco, al di là del calcio giocato è bellissimo, quindi complimenti a Spaletti per più situazioni come questa